E' accaduto anche da noi, da questa mattina in Val di Susa, gli sconti tra polizia e manifestanti rimbalzano su Twitter. Significa sostanzialmente che le prove generali di quella rivoluzione che può passare dalla rete sono ufficialmente iniziate. Il territorio è uno di quei territori che si presta a dover essere raccontato attraverso Internet. Nessuno di noi probabilmente dieci anni fa avrebbe pensato che scontri tra manifestanti e polizia all'alba in tempo reale divenissero un fatto di dominio pubblico. Adesso ci siamo, ci sono a fianco a manifestanti armati di strumenti capaci in qualche modo di rimuovere le barriere fisiche, ce ne sono altri armati di strumenti ancora più inoffensivi capaci di rimuovere le barriere, quelle geografiche e quelle mediatiche, un telefonino, un iPad, uno smartphone. In realtà lo scontro tra il manifestante e la polizia che si consuma sotto la galleria della Val di Susa diventa un fatto di dominio pubblico. Direi che sostanzialmente siamo davvero ad un passo dal poter dire che quello che si sta per consumare, che si sta consumando in queste ore in Val di Susa è dal punto di vista della comunicazione mediatica, dal punto di vista dell'utilizzo di Internet per manifestare in maniera forte da parte della società civile, l'esperimento più prossimo a quello che è accaduto negli ultimi mesi nell'Africa settentrionale. Il tappo mediatico che è lecito a tendersi, che scoppierà nei giorni a venire non potrà assolutamente nulla, perché l'informazione correrà evidentemente secondo binari e lungo binari è assolutamente nuova, sono migliaia semplicemente nella notte, i twitter che chiunque può leggere, twitter che raccontano delle emozioni dei manifestanti, che invitano altri manifestanti ad unirsi a quanti stanno già combattendo questa battaglia sul terreno, sono soprattutto twitter che raccontano del singolo manifestante che si cala nella galleria cercando di aggirare le forze dell'ordine, del placcaggio delle forze dell'ordine ai danni del manifestante, insomma raccontano episodi in 140 caratteri di una manifestazione che si consuma lontano da molti di noi e che pure sembra così vicino e lo fanno senza filtri. È un po' un esperimento di democrazia ora, quale che sia la posizione dei singoli in relazione a quello che sta accadendo in Val di Susa, quale che sia la posizione sul TAV o sul non TAV, però è un esperimento di democrazia, di questo dobbiamo darcene assolutamente atto, adesso si tratta di vedere come reagiranno tra l'altro i media tradizionali, sono davanti ad un bivio perché possono scegliere di dare anche loro l'informazione senza filtri, senza censure, senza pelle o piuttosto possono decidere di rimanere legati al vecchio modello e di lasciare che invece l'informazione quella senza filtri continui a passare soltanto sulle pagine di Facebook che è lecito attendersi, si riempiranno di questi messaggi nelle prossime ore, nella blogosfera e sui Twitter. In questa seconda ipotesi probabilmente siamo molto vicini ad una sconfitta importante dal punto di vista mediatico dei media tradizionali perché è facile attendersi che la gente preferirà cominciare a seguire questa rivolta attraverso Internet. Grazie a tutti! Grazie a tutti!